Oggi, domenica 25 giugno, alle 21, al Museo Giardini Pitagora di Crotone, andrà in scena La Cameriera di Puccini, una coproduzione della Compagnia Teatri d'Imbarco e Traiettorie APS, con Beatrice Visibelli e Giovanni Esposito, il soprano Teresa Cardace, Sergio Coniglio al pianoforte, contesto e regia di Nicola Zavagli. La Cameriera di Puccini è uno spettacolo che unisce musica e teatro, alternando al racconto drammaturgico, le apparizioni in musica delle celebri eroine pucciniane. Siamo a Torre del Lago, nella villa di Puccini, nel 1908. Arriva da Firenze un giovane giornalista per intervistare il maestro. Viene accolto in malo modo da Marianna, la Cameriera di casa. Sulle prime non vuole farlo entrare perché oggi è successa una disgrazia. Poi lo invita ad aspettare il ritorno del maestro, sperando che nel frattempo il giovane, appena laureato in botanica, l'aiuti a guarire le sue rose ammalate. Tra i due cresce una specie di intimità che porterà a Marianna a raccontare. E così, per bocca di questa simpatica Cameriera, con la sua bella lingua toscana, si andrà a conoscere Giacomo Puccini. Dalle emozionanti storie delle sue opere alle pieghe più intime della sua vita, ma anche il suo essere mondano, la sua simpatia e quella sua dolorosa malinconia che si riflette nella calma e immobilità del piccolo lago. Il racconto dell'appassionata Cameriera si tingerà anche di giallo, prendendo il risvolto di un'indagine tra le pieghe di quel mistero che avvolse casa Puccini, il caso Doria Manfredi, per il quale furono coinvolti il maestro e la moglie. Marianna lo difenderà fino in fondo, finché potrà, anche lei, come tutti, innamorata di lui. Entreremo così nel mondo poetico e musicale del grande Puccini, dalla porta della sua vita e insieme alla sua musica. Beatrice Visibelli tratteggia con trascinante simpatia questa buffa cameriera, sempre pronta a commuoversi con le eroine del maestro, che appaiono in musica con cinque tra le sue più celebri romanze. La scelta di uno spettacolo come la Cameriera di Puccini all'interno del festival sottolinea la volontà dei direttori artistici Domenico Gatto e Renato Bonaiuto di dar voce alla dimensione popolare e al potere evocativo della lirica, per creare momenti di incontro e di ricerca, percorsi coinvolgenti e inclusivi, spettacoli in grado di suscitare grandi emozioni, fruibili da un pubblico sempre più vasto ed eterogeneo.